Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, il rugito che salvò la foresta, dell'episodio numero 12, alleniamoci. Il giorno successivo, Kango, il canguro, come aveva promesso, decise di allenare Roger, esercitandolo per affrontare l'incendio. Il canguro, infatti, aveva realizzato del materiale apposta per rappresentare la scena. Kango disse a Roger, bene, ora che è tutto pronto, vorrei dirti alcune cose prima di iniziare. Questa scenetta, per quanto può sembrarti ridicola, ti sarà utile per affrontare l'incendio al meglio. Perciò iniziamo. Finito di parlare, Kango iniziò a muovere il pezzo di polistirolo, color rosso, facendo finta che fosse un'ardente fiamma. Poi disse, fingendosi l'incendio, io sono Morris, l'incendio australiano, e ogni cosa verrà distrutta. Nulla potrà fermarmi. Roger, stando al gioco di Kango, si avvicinò con tenacia alla finta fiamma, e ruggendogli, la insuppò miracolosamente d'acqua. Stupito e meravigliato dai suoi poteri, Roger ringraziò Kango per l'ottimo allenamento. Poi, continuando gli allenamenti, il Koala comprese che stava migliorando. Sempre di più, acquisendo dentro di sé più autostima. Questo è Roger, e questo è Kango. Bene, continuiamo. Il ritorno di Jaico Passati diversi giorni, Jaico, il varano, venuto a sapere che Roger era cresciuto, pieno di rabbia, arrivò all'albero di Roger, e arrampicandosi con ambizione e fatica, giunse davanti ai genitori di Roger, i quali vissero a Jaico. Cosa vuoi da noi, Jaico? Scendi subito dal nostro albero. Jaico, testardamente, non ascoltò i genitori di Roger. Quindi, dopo che individuò Roger, si scaiò su di lui, per divorarlo. Ma fortunatamente intervennero i genitori di Roger, che fecero precipitare giù dall'albero Jaico. Tuttavia, esso non si rese, perciò, per provocare la rabbia di Roger, si mangiò qualche foglia del suo alberello, che aveva curato. Roger, infastidito che Jaico gli stava distruggendo il suo piccolo alberello, scese dall'albero e, ruggendogli, scagliò il perfido varano contro un albero, che, pentito, decise di non cibarsi mai più di Koala, poiché capì che stava sbagliando a cibarsene con grande avidità. Quindi scelse di dedicarsi a una vita tranquilla, senza spaventare nessuno. Quando Jaico si allontanò, i genitori di Roger ingrassiarono il loro figlio, per aver cambiato il malvagio Jaico, che da quel giorno non rappresentò più una minaccia per i Koala. Questo è Roger e questo è Jaico. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto, grazie alla prossima. Ciao da Simone, ciao!